Ciao a tutti sono giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi Il famoso ex vippone Alex Belli, beccato a divertirsi particolarmente con due bellissime donne Questa volta è davvero troppo per la futura moglie Delia Duran, ecco tutti i dettagli a riguardo Alex Belli e Delia.l' ex concorrente del grande fratello Vip torna a far parlare di sé per via delle sue serate particolari in compagnia In questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di comprendere il suo singolare carattere ed il suo modo di pensare Più volte l'uomo ha infatti affermato che, a suo dire, non c'è nulla di scandaloso nell'amare due o più donne contemporaneamente In questa ultima edizione del programma infatti l'abbiamo visto intraprendere una sorta di avvicinamento artistico con l'ex Jeffina Soleil Sorge Da allora per lei tutto è cambiato. Anche se i telespettatori si suddividono in diverse schiere in merito a questo argomento, bisogna ammettere che la ragazza si è ritrovata nel mezzo di un vortice mediatico davvero inimmaginabile Con il passare del tempo appunto i due si sono completamente allontanati poiché la situazione iniziava ad apparire sospetta per lei ed inoltre lei non lo avrebbe mai condiviso Delia e Alex Belli.A quanto pare però, nonostante le chimiche artistiche il ragazzo ha comunque portato avanti la sua relazione con la futura moglie Delia Durante Questa volta però l'ex Vipone potrebbe aver superato il limite da lei concesso Alex Belli in compagnia di due bellissime donne, quello che succede è davvero inimmaginabile, povera Delia Nelle ultime ore sulla coppia più chiacchierata del grande fratello Vip si è nuovamente posato l'interesse mediatico proprio per via del comportamento di Alex Conoscendolo, perfino molti conduttori televisivi hanno deciso di stuzzicarlo mettendo magari in risalto i suoi errori Alex Belli ha la pupa e il secchione.Una conduttrice in particolare però, anziché mettere in discussione il suo operato lo ha incoraggiato davanti a tutta l'Italia Stiamo parlando proprio della famigerato conduttrice Barbara D'Urso, la quale attualmente si trova a capo della conduzione del programma La Pupa e il secchione Molti sono i volti che sono dentro il cast proprio grazie a lui e per questo motivo infatti la conduttrice ha deciso di omaggiarlo in un modo del tutto singolare Le pupe infatti, due in particolare hanno deciso di ballare con lui, o meglio, letteralmente incollate a lui mentre lui sedeva tranquillo Ebbene sì, questa volta il suo spiccato caratterino non è l'artifice della situazione Al centro dello studio abbiamo visto quindi Alex letteralmente provocato da due giovani e belle pupe, cosa ne penserà D'Elia di tutto questo? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video